Benvenuti in questo video, critica realizzata sul suggerimento degli spettatori l'incredibile e fortissimo junior e marione de bist. Questa critica è resa possibile grazie al patrocinio di Allevamenti Aya Dove c'è Aya c'è dolore Oggi parleremo di una specie altamente diffusa nel mondo con capacità cognitive sottovalutate dalla maggior parte della popolazione globale senza un reale motivo. Prego tutti coloro che amano mangiare grano di non sentirsi in competizione con questo animale. Iniziamo! Introduzione Il pullus è uno degli stadi di grandezza del Gallus gallus domesticus non utilizzatus per il couscous. Le sue origini sono antichissime e possiamo individuare le sue prime origini nelle terre indiane dalle quali si è poi diffuso in tutto il mondo grazie al suo ingegno e alle sue caratteristiche innate che lo rendono eccellente nell'abilità del volo più basso del mondo. Il pollo è un animale molto emblematico perché rappresenta sia la buona cucina che la maggior parte del popolo femminile visibile in trasmissioni di spicco in orari pomeridiani. Ma analizziamo insieme tutte le caratteristiche di questo animale che ci lasceranno a bocca aperta se non lo stiamo già masticando. Storie di polli Questo animale è spesso frutto di miti e leggende. La sua larga presenza in ogni ambito sociale lo rende uno degli uccelli più conosciuti del mondo superando in notorietà anche quello di Giovannino Mali noto avvicoltore americano. Storie tramandate da secoli raccontano della sua capacità di salvaguardia del pianeta grazie alla trasmissione di malattie contagiose che determinano cambiamenti radicali che deviano elementi di gruppi di esseri viventi rendendoli infestanti come gli spettatori dei Me Contro Te. Un esempio di queste epidemie è la nota aviaria che ha indotto molte persone a volare con la fantasia diventando piloti di aerei nelle loro case attraverso l'imposizione verso i propri figli di cibo con una forchetta. La storia più emozionante del mondo dei polli è sicuramente quella che riguarda il pollo senza testa. Si narra infatti di un pollo innamorato che ha vissuto per 18 mesi senza possedere la testa alimentato da un umano benevolo che voleva ucciderlo poco prima. Aveva perso la testa a causa di una sensuale gallina che dopo vari corteggiamenti svolti senza successo si è rivelata essere solo un'oca. Lotte sociali Il pollo si è sempre prodigato per il benessere della società nel quale viveva. Un esempio della sua benevolenza è la sua organizzazione sportiva di combattimenti tra polli conosciuta in ambito nazionale con l'acronimo POLLI Pennuti e ussuti litigano liberi inutilmente. Organizzano tornei internazionali di combattimento di polli di cui distinguiamo razze di vario peso forma, colore e sapore. La categoria più famosa di questi ultimi è sicuramente il peso piuma nella quale polli dei periti si affrontano in un testa a testa da cui uno dei due vince il titolo di maestro del pollaio mentre il perdente viene cotto arrosto con patate o messo in commercio per i panini del McDonaldo. Altre categorie del combattimento dei polli sono il peso cuscino di cui fanno parte i polli voluminosi ma di medio peso e quelli col ciuffo alla malgioglio. E il peso tacchino conosciuto per la partecipazione di molte razze penute esterne tra cui gli struzzi. Anche se a primo impatto tutto ciò può sembrare assurdo ci accorgiamo invece di quanto questo animale sia fondamentale nella nostra società animando la nostra vita e risollevando situazioni poco convenienti come le influenze alle quali ne deriva sempre un ottimo brodo. E dopo questa descrizione dei fatti più importanti del pollo non ci rimane che un'ultima domanda è nato prima l'uovo o il pollo? Se questa critica vi è piaciuta commentate con il cancelletto associazione polli premete il tasto del mi piace iscrivetevi al canale e fate suonare il campanile per aiutare a far crescere la nostra comunità intellettuale vi chiedo di condividere questo video più volte possibili con il vostro pubblico. Inoltre dopo aver visto i miei riferimenti in descrizione suggeritemi la prossima critica qui sotto nei commenti. Buona giornata! Grazie!